Buongiorno, ci troviamo sul campo sportivo comunale di Rapino, incontro di calcio oggi per la sesta giornata di andata tra il Rapino Calcio e la Virtus Castelfrentano. Il Rapino Calcio nella fase di riscaldamento giocheranno con la divisa nero-verde, mentre la Virtus Castelfrentano giocherà con la classica maglia giallorossa. Qua si vede la compagine del Rapino Calcio, un gruppo qua, un altro gruppo qua, la tribuna, qua invece si vede i ragazzi della Virtus Castelfrentano, c'è anche mister Marco Piccirilli che dirige la fase di riscaldamento. Qua c'è un altro gruppo sempre di nostri calciatori, in fondo c'è Gerardo il portiere che viene a sua volta allenato dal collega Suriani, Gerardo è titolare e Suriani è il numero 12. Che vinca il migliore, siamo stati ospiti di alcuni dirigenti del Rapino Calcio a pranzo, in quanto nello spirito competitivo, sportivo, siamo rivali in campo ma sempre amici fuori, che vinca il migliore. L'arbitro, il direttore di gara e della sezione AIA di Lanciano, è venuto anche mister Gabriele Di Felice, mister degli allievi, mister dei primi calci e coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile. C'è anche Cocciolone, dirigente Adriano, c'è anche Salvatore Travaglini come dirigente, qua abbiamo anche il nostro calciatore ancora importunato Manuel Di Martino, ancora forse per un'altra domenica? Speriamo, speriamo. Ho visto che hai la maglia? Sì, sì, la maglia. Ah, la maglia, proprio ti senti come se vai in campo. Facciamo gruppo. Gruppo, gruppo, giusto, coesione. Ma anche il segretario mi pare. Il segretario si è preso un mese di ferie. Ecco qua abbiamo mister, mister Gabriele, il tesoriere Cocciolone, il dirigente, consigliere, collega, Adriano Gian Cristofalo, proveniente anche lui da un ristorante. Come sei stato al ristorante? Il tiglio, il tiglio, il tiglio. Il tigre. Abbiamo visto, abbiamo visto bei piatti, però. Sì, sì, bei piatti, abbiamo visto le poche. Soprattutto la responda. Voglio dire anche il nostro agnello speciale. Allora no, noi siamo tanti anni poi ci siamo prima. Eh, se squaglievo in bocca. No, abbiamo facciato anche il bocconotto, il bocconotto di rapino. Eh, anzi si chiama pasticcio, si chiama pasticcio qua. No, perché se puoi tirare la casa di Gerardo, la carne a rossa. Ah, beh, allora non avevo voluto il cedere. Fa mistero dell'omissero. Sì, sì. Ecco il riscaldamento qua del rapino calcio, anche qua del rapino calcio. In fondo, giallorosso, il riscaldamento della Virtus Castelfrentano di mister Marco Piccirilli. Signori, vi prendiamo le riprese con le entrate in campo fra poco.